Crotone, città dello sport. Era stato uno slogan utilizzato per descrivere il fermento sportivo nella città di Pitagora qualche anno fa. La situazione dell'impiantistica sportiva a Crotone sembra essere arrivata a un punto di svolta, nonostante manchino all'appello alcuni tasselli. Questa la tematica al centro della conferenza stampa convocata dall'assessore comunale al ramo Luca Bossi. Per quanto riguarda le strutture principali, il Palacro era stato già assegnato alle ASD Pallavolo Crotone e Pallamano Crotone con un canone annuo di 3.000 euro. La gestione della piscina olimpionica è stata affidata alle società Rarinante e Secroton Nuoto e i costi di gestione saranno a loro carico. Vi è un impianto fotovoltaico già attivo che permetterà un risparmio del 30% sul consumo dell'energia elettrica ed è già prevista l'installazione di un pallone presso statico per consentire l'utilizzo dell'impianto tutto l'anno. Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del Pallamilone. Entro 60 giorni sarà ripristinato il parquet e poi si procederà al bando per la gestione. Per quanto concerne il settore B, il bando è andato deserto e sarà ripubblicato. Novità anche per la piscina Coni. Si è chiusa la gara per la progettazione del nuovo impianto. È stata ammessa l'unica proposta di candidatura per la gestione della piscina olimpionica, quindi a meno di atti di procedure da parte del settore competente. Nei prossimi giorni verrà formalizzata l'aggiudicazione a favore dell'unico soggetto che ha partecipato che è l'ararianante Scrotone insieme alla Crotonuoto. Come amministrazione cercheremo di stare vicini, di supportare quanto più possibile. Conosciamo la situazione economica. L'abbiamo reso quanto più appetibile il bando a fronte dell'attivazione di un impianto fotovoltaico. L'abbiamo fatto ottenendo un finanziamento per la fornitura di una copertura presso statica, aggiudicato nei giorni scorsi, il che darà la possibilità di ottimizzare ancora di più i costi di gestione. Il settore B verrà ripubblicato lunedì il bando. Come sappiamo è andato deserto. E come mai è andato deserto? Ce lo chiediamo anche noi perché a fronte di 7-8 ristanze di richieste di utilizzo temporaneo ci sono state zero offerte di gestione. L'altra notizia importante è che ieri si è chiuso l'iter di aggiudicazione dei lavori di ripristino del Palamilone. Entro 60 giorni avremo il Palamilone di nuovo operativo e funzionante, a meno del collaudo che dura 10 giorni. I tempi. Piscina olimpionica sarà ovviamente il concessionario, dovrà farsi carico del riavvio della struttura e quindi è il concessionario che detterà da ora in poi la tempistica. Altra novità importante, abbiamo terminato la fase di gara delle varie processi di riqualificazione e rifunzionalizzazione, in primis la piscina Coni. Hanno partecipato due studi internazionali, la settimana prossima verrà giudicato e quindi partirà anche in quel caso tutto l'iter per la fine del progetto. La piscina Coni attualmente ovviamente sarà fatto il progetto che prevede la demolizione perché deve essere bonificata, demolizione con rifunzionalizzazione e ricostruzione di tutto l'impianto.